Il prossimo 2 giugno si svolgerà la cerimonia di consegna da parte del prefetto dell'Aquila dei diplomi dell'onore al merito della Repubblica Italiana. Tra i destinatari della prestigiosa onorificenza figura anche il cavaliere Domenico Leone, nato a Castel del Giudice, in provincia di Sernia, ma residente a Sulmona, insignito nell'occasione dell'onorificenza di ufficiale dell'ordine al merito della Repubblica Italiana con decreto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella del mese di dicembre 2021, a seguito di segnalazione dell'Avis di Sulmona per l'impegno solidaristico per l'eccezionale attività donazionale di sangue ed emoderivati esplicitata con 224 donazioni, oltre ai numerosi incarichi di responsabilità in differenti ambiti operativi.